Lenovo ha da poco lanciato sul mercato il nuovo Moto G5 Plus, uno smartphone che sono sicura riuscirà a conquistarvi. Vi spiego perché in questa nuova puntata di Tech Princess. Moto G ha fatto la sua comparsa sul mercato nel lontano 2013, conquistando subito migliaia di consumatori in tutto il mondo. Un successo che ha spinto Motorola a lanciare una seconda e poi una terza generazione di questo smartphone, raccogliendo sempre un ampio consenso. A questo punto vi starete chiedendo come ha fatto Moto G ad attrarre così tante persone, semplice, unendo la facilità di utilizzo e performance assolutamente notevoli a un prezzo davvero contenuto. Una formula ripresa anche dal nuovo proprietario del brand, ossia Lenovo, che da quest'anno ha presentato i nuovi Moto G5 e Moto G5 Plus. Le caratteristiche di questi smartphone sono state definite da Lenovo grazie a una serie di sondaggi rivolti ai consumatori, a coloro che il telefono poi lo dovranno realmente acquistare. Un esempio? Questo Moto G5 Plus non è più in plastica come i suoi predecessori, ma vanta un corpo in metallo che lo rende robusto ed elegante. Quello che ho tra le mie mani è la versione Lunar Grey, ma esiste anche il modello Fine Gold, ossia dorato. I consumatori però non vogliono solo un bel telefono. Lo smartphone infatti deve essere in grado di stare al passo con noi. Per farlo, Moto G5 Plus si affida ad un ampio display da 5.2 pollici, ad un processore Snapdragon 625, ad una GPU Adreno 506 e a 3 GB di RAM, una marea di numeri che in realtà significano una sola cosa. Moto G5 Plus è in grado di fare praticamente tutto, che sia messaggiare con gli amici, guardare video su YouTube, giocare oppure navigare in rete. Senza contare che i 32 GB di memoria interna espandibili tramite una scheda microSD vi consentono di installare moltissime applicazioni e di conservare un sacco di foto. Sì, anche quelle dei nipotini. Ed è proprio della fotocamera che voglio parlarvi adesso. Moto G5 Plus è dotato di un sensore da 12 megapixel con doppio autofocus, che consente una messa a fuoco super rapida. Avere foto sfocate sarà quasi impossibile. Lenovo ha anche pensato a chi esce spesso con gli amici la sera e quindi si trova a scattare foto al buio. Il sensore della fotocamera ha un'apertura f1.7 che permette di far entrare più luce così avrete ottimi scatti anche in condizioni di scarsa luminosità. L'ultima caratteristica di Moto G5 Plus definita grazie ai sondaggi condotti da Lenovo è la batteria da 3000 mAh che vi permetterà di arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi. Moto G5 Plus sfrutta inoltre la tecnologia Turbo Power, che significa semplice con soli 15 minuti di ricarica otterrete quasi 6 ore di autonomia. Moto G5 Plus sarà disponibile ad aprile a un prezzo di 299,90 euro. Se invece siete interessati al suo fratello minore Moto G5 lo troverete in esclusiva nei negozi team al costo di 199,90 euro. Per oggi è tutto, noi ci vediamo nella prossima puntata e ricordatevi di seguirci anche sul nostro sito www.techprincess.it. Ciao!